Grazie di essere qui La connessione è che va felice di essere qui Sarà Cos'è stata la prima cosa che ho fatto entrando? Non so se vede È andata in camera assieme No 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 Greta guardi qua in mezzo Scusa per il flash Scusa per il flash Scusa Quindi pensi di restare in Italia? Beh certo Adesso ce la teniamo un po' per noi Di che cosa vuoi chiedere scusa agli italiani? Se è vero che hai chiesto scusa No no non mi spostate Ha chiesto scusa alla famiglia Scusa Scusa alla famiglia perché comunque ha provocado un dolore E ritaglio per l'Italia ringrazio tantissimo l'accogliente che hanno dato E comunque la famiglia L'unità di crisi L'attiva accogliente davvero E mi ricorderò sempre Sono stato sicuramente importante Soprattutto nel mio amore Perché è davvero difficile E anche adesso che sono in questione qui Sono una fata Greta e di questo riscatto? Di che si parla? Penso che questo abbia già chiarito tutto Gentiloni E penso che non ci interessa a noi Abbia chiarito il ministro Per cui se volete lo scoop inventatevelo come gli altri Non coprirlo per favore Un momento più difficile Greta In bocca al lupo Grazie mille Siete gentilissimi Grazie mille Grazie Grazie Ok tolato con ciò Vai Dai Dai